Parte domani, venerdì 19 luglio, l'evento che i torresi aspettano da 16 anni. La festa dei quattro altari, che trasformerà il centro di Torre del Greco in una galleria d'arte all'aperto e in un grande palcoscenico naturale, inizia alle 18 con la sfilata e il concerto della banda cittadina I Corallini, diretta dal maestro Francesco Izzo, e proseguirà con spettacoli e concerti fino alla mezzanotte di domenica 21 luglio, quando i tradizionali fuochi d'artificio faranno calare il sipario sulla Kermess, riportata in vita dal sindaco Luigi Mennella e affidata al direttore artistico Gigi Di Luca. Il tema che unisce altari e tappeti, spettacoli e concerti è la pace, ma l'impianto della festa ruota intorno a quattro argomenti, corpus domini, riscatto baronale, identità e tradizione. Gli altari, realizzati da Filippo Romito, Francesco Scognamiglio, Alfonso Raiola, Antonino Amendola, si trovano in piazza Santa Croce, Palazzo Baronale, Corso Garibaldi e piazza Luigi Palomba. I tappeti, firmati da Vincenzo Borrelli, Raffaele Panarello, Sergio Eco e Antonio Caso, si trovano nella chiesa di San Filippo Neri a Sabato Noto, chiesa di San Michele Arcangelo in via dei Cocola Marino, chiesa del Santissimo Rosario a Corso Umberto I e Palazzo Baronale a via del Pebiscito. Il programma di venerdì 19 luglio prevede alle ore 18 la sfilata e il concerto della banda Cittadina dei Corallini, parte dal centro storico e arriva in villa comunale. Alle 19.30 a Palazzo Vallelonga in programma il convegno sui temi della festa e a seguire il reading teatrale in riscatto baronale. Alle 20 a Corso Umberto e a via Roma ci sarà lo spettacolo di clown e giocoleria. Alle 20.30 in villa comunale il Forum Young Festival a cura del Forum dei Giovani di Torre del Greco. Alle 22 sul palco di via Comizi il concerto di Max Gazet con Calabria Orchestra.